Lunedì 12 febbraio è la giornata internazionale dell'epilessia. Allora do il mio benvenuto alla dottoressa Daniela Audenino, medico responsabile dell'ambulatorio dell'epilessia dell'ospedale Galliera di Genova. Benvenuta dottoressa. Buongiorno a tutti voi, grazie. È una giornata importante perché bisogna parlare dell'epilessia anche per ricordare a tutti come questa non sia una malattia invalidante. Allora parto proprio da qui, dal significato di questa giornata dottoressa. Sì, allora il significato della giornata vuol proprio essere quello di sfatare un mito su questa patologia. Patologia che è nota fin dall'antichità, infatti la sua etimologia deriva dalla parola greca, dal verbo greco epiliambanei, essere colto di sorpresa ed è nota appunto dai tempi antichi. ancora al giorno d'oggi però c'è un alone diciamo di stigma attorno ad essa perché quando si parla di epilessie in realtà bisognerebbe parlare di epilessie. Esistono infatti forme molto diverse da questa che è una patologia neurologica che poi andremo a definire a breve e appunto in alcuni casi, nella maggior parte direi dei casi, c'è una possibilità di una qualità di vita ottimale con l'utilizzo di terapie farmacologiche. Esistono anche dei casi in cui c'è una risoluzione della forma di epilessia perché esistono delle forme appunto età dipendenti, età correlate e quindi che poi si risolvono nel momento in cui il bambino o il ragazzino diventa grande. Quindi ragion per questo è importante far capire che in tanti casi chi ha l'epilessia può condurre una vita assolutamente normale con qualche minima limitazione ma nella maggior parte dei casi normale e quindi una buona qualità di vita e va ovviamente così interpretato senza fare come dire delle senza avere dei pregiudizi o come dire porre delle limitazioni sapendo che una persona appunto è epilettica e questo in qualsiasi fase della vita quindi sia per quanto riguarda i genitori sia nel momento dell'età scolare sia nel momento dell'inserimento nel mondo del lavoro e così via. Dottoressa questo è davvero importante insomma importante anche ripeterlo perché riguarda tutti, no riguarda tutta la popolazione ma a lei ha accennato a varie forme di epilessia ma cos'è l'epilessia e quando insorge? L'epilessia è una patologia che deriva appunto che abbiamo detto deriva da una iper eccitabilità, una iperattività di cellule nervose che sono i neuroni che provocano le crisi epilettiche. Mi sentite? Sì sì prego dottoressa Parli, la sentiamo benissimo. Perfetto e appunto queste crisi epilettiche cosa sono? Sono clinicamente delle manifestazioni caratterizzate da una comparsa improvvisa, una ricorrenza imprevedibile, una brevissima durata che hanno segni e sintomi che dipendono dalle funzioni dei neuroni coinvolti, quindi va da sé che avremo varie forme di crisi epilettiche, si va dalla forma più eclatante che è quella che tutti conosciamo e che tutti come dire temiamo che è la crisi convulsiva generalizzata, ma le crisi epilettiche si possono manifestare anche solo con dei segni sintomi motori, con dei disturbi sensitivi, con dei disturbi visivi, talora anche con dei disturbi auditivi. Per porre diagnosi è necessario che si verificano almeno due crisi che si dicono spontanee, cioè non provocate, quindi non espressione di un danno cerebrale acuto, poi ci ritornerò un attimo su questo punto, separate da un intervallo di tempo di almeno 24 ore. In alcuni casi al giorno d'oggi è possibile, con le nuove revisioni anche di indicazioni di diagnosi di epilessia, si può ritenere anche una persona affetta da epilessia se ha una sola crisi non provocata, però con un'alta probabilità di avere una crisi analoga nei successivi dieci anni. Quindi dicevo le crisi epilettiche... Io chiuderei questo nostro intervento parlando anche dei farmaci, perché si sono fatti tanti passi avanti negli ultimi anni, soprattutto rispetto alla qualità della vita dei malati di epilessia. Sì, appunto, quando dicevamo prima che nella maggior parte dei casi i pazienti possono avere una buona vita, una buona qualità di vita, è perché la terapia farmacologica ha fatto molto. Non è riuscita ovviamente a fare tutto, perché esistono ancora un 30% di soggetti che hanno le crisi epilettiche nonostante la terapia. In questi anni ci sono stati dei notevoli passi perché sono usciti nuovi farmaci, adesso si sta pensando anche a nuove terapie con nuovi target. Esiste anche un tentativo di riproporre specie in alcune forme particolari di epilessia in cui si sa proprio bene l'eziologia delle terapie che magari erano state, erano nate con altre indicazioni e che invece vengono riproposte per la cura dell'epilessia. Ricordiamo che l'epilessia, non l'ho detto prima, può essere dovuta a tantissime cause. Quindi si va dai danni perinatali ai danni cerebrovascolari, alle malattie neurodegenerative, qualsiasi danno cerebrale può causare un'epilessia, ma la maggior parte dei casi spesso hanno una base genetica e in questo senso si sta tentando molto anche di andare incontro a una terapia mirata, conoscendo anche meglio qual è l'eziologia, qual è il gene coinvolto nella forma di epilessia e quindi nei prossimi anni probabilmente ci sarà anche uno sviluppo importante in questo senso. Grazie, grazie alla dottoressa Odenino dell'ambulatorio dell'epilessia del Galliera. Ricordo nel corso della giornata sono tanti gli eventi, anche uno all'ospedale Galliera dedicato in particolare al personale scolastico, ma anche organizzato dall'ospedale Gaslini e dal San Martino. Io la ringrazio per averci raccontato e spiegato e le auguro una buona giornata.